Mi chiamo Samuele, ho 17 anni e vivo con i miei zii e mia nonna. A loro devo molto, almeno tanto quanto i miei miei veri amici, il pianoforte, il flauto e la chitarra. Suono da circa 8 anni. Da grande mi piacerebbe fare il musicista. Quando lo vedo suonare, lo vedo in un'altra dimensione. La musica mi ha aiutato molto in molti momenti difficili della mia vita. Mia mamma è morta 7 anni fa. Non si sarebbe mai aspettato di perderla dall'oggi al domani. È stato per tutti un colpo forte. La musica mi ha aiutato molto a risollevarmi, a riflettere e mi ha aiutato anche a crescere. È tosto. Anche un pochino viziale. Io lo chiamavo il mio Principe d'Oro, ce lo chiamo ancora. Basta chiamarlo Principe d'Oro perché ora è giusto che inizi a fare qualcosa anche da sé. Grazie. 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 Grazie.